Arriva una notizia davvero inattesa per il popolo di uomini e donne. Una popolare ex corteggiatrice della trasmissione, Ramalila Giustini, ha annunciato di essere incinta. Lo ha fatto con un post su Instagram in cui mostra il pancino evidente. La 27enne si trova a Miami e lancia la bomba ai fan. Ero alla ricerca di qualcosa. Qualcosa che mi mancava. Qualcosa che mi faceva sentire persa. Ora l'ho trovata. Spezzerai qualche cuore, ma ormai ci sei e tu. Attivissima sui social ma molto discreta sulla sua vita privata, Ramalila non ha mai lasciato intendere di avere un compagno e la notizia della gravidanza è un vero fulmine a Celsereno. Resta dunque ignota l'identità del futuro papà, così come decisamente criptica e la frase che chiude il post. C'è qualcosa nell'aria di Milano. State attenti, potrebbe essere contagioso. La Giustini, milanese nata da mamma di origini indiane, è sbarcata a uomini e donne nel 2014, per corteggiare Iomas Berami. L'attore del Segreto, poi concorrente all'Isola dei Famosi, la scelta è lei ha accettato. La loro relazione, però, è tramontata appena cinque mesi dopo, non senza polemiche. Qualche fan, all'epoca, sostenne come due, in realtà, non fossero mai state davvero insieme. In seguito, la Giustini si è legata all'imprenditore Salentino Manuel Mazzotta ed è apparsa per un breve tempo vicino allo youtuber Francesco Sole. Curiosamente, la notizia della gravidanza arriva a pochi giorni di distanza dal lieto annuncio di Sharon Berigonzi, grande amica di Rama Lila e anche lei ex corteggiatrice di uomini e donne. La Berigonzi ha svelato di essere incinta un anno esatto dalle nozze con Valerio Teneriello. Chi se ne frega! Chi se ne frega! Grazie.